Benvenuti a Non sono solo strade, il podcast che racconta la storia delle persone i cui nomi sono incisi sulle targhe agli incroci delle strade. La puntata di oggi è dedicata ad una via centrale, molto centrale, impossibile non esserci passati almeno una volta. Sto parlando infatti di via Durini. La prossima volta che ci passate provate a guardare la targa. Noterete che non c'è scritto nulla sotto il nome, né date né luoghi di nascita o morte. Durini infatti è il nome di una famiglia. La famiglia Durini la troviamo già intorno all'anno 1000. Nobili del Comasco avevano il titolo di Decurioni. Arrivano a Milano intorno al 1600 con la loro attività di banchieri. Siamo nel periodo della dominazione spagnola e la famiglia Durini diventa molto importante proprio per la Spagna, che sempre a caccia di soldi trova nella famiglia una fonte veramente preziosa. Gli affari vanno bene e nel 1644 danno incarico a Ricchini di costruire il loro palazzo. Ma non solo, pochi anni dopo succedono nel dominio della contea di Monza. Poco? C'è da dire che proprio a Monza si daranno un grande affare, sia per la loro attività finanziaria ma anche per la cultura. La famiglia Durini manano leggi per incentivare artigianato e commercio e fanno affrescare la cattedrale di San Giovanni Battista, chiamando nomi tipo Nuvolone, Procaccini, Legnanino e Ricci. Questi ultimi due ricevettero l'incarico di realizzare una grande tela che rappresentasse Teodolinda che fonda la Basilica di Monza. Già molto, ma mica finisce qui. Giovanni Battista I Durini fece costruire Villa Mirabella, che in seguito viene ampliata da Giuseppe I, il quale comprò anche grandi lotti di terreno circostanti alla villa, con l'idea di realizzare grandi giardini alla francese. È praticamente l'inizio di quello che oggi chiamiamo il Parco di Monza. Tornando a Milano, sono stati tanti gli esponenti della famiglia Durini che hanno lasciato un segno importante nelle vicissitudini milanesi, nella finanza certamente, ma anche nella vita ecclesiastica, diplomatica e anche ai vertici del governo della città. A scanso di equivoci, ricordo che la famiglia Durini è attiva ancora oggi. Il loro palazzo, nella via omonima, viene comparato nel 1920 da senatore Borletti, senatore di nome, non di incarico, con l'obbligo di lasciar vivere nel palazzo Paulina Durini. Alla morte di quest'ultima, nel 1925, il palazzo, che nel frattempo era stato anche restaurato dal portaluppi, venne venduto ai caproni di Tagliedo, che lo occupano fino al 1957. Dal 1997 al 2009, una parte del palazzo ospitò la sede dell'Inter. Via Durini, una via meravigliosa con tantissime cose da vedere, ma anche con una storia incredibile.